ciao a tutti e bentornati in un altro tutorial di uncinetto bordini anche questa volta questo bordino sono è lo stesso schema solo che sono fatti con uncinetto numero più piccolo azzurro e filo qui più grosso qui più fino ovviamente voi potete utilizzare il filo e uncinetto ancora più piccoli per ottenere un bordino per mettere una tovaglia elegante eccetera e questo lo potete utilizzare questo filo e questo uncinetto lo potete lo potete utilizzare per fare bordini a bordo a una coperta dunque qui ho fatto ho utilizzato come base come maglia di base maglia mezza alta qui ho utilizzato la maglia alta una riga di maglia alta e qui nel campionario che sto facendo per il tutorial sto utilizzando una maglia bassa quindi potete utilizzare la maglia che meglio che meglio preferite per fare la una riga di base dunque dunque ovviamente voi per fare la vostra a tovaglia o a sugaman o qualsiasi cosa vogliate fare farete il bordino secondo la superficie che voi avete ma per realizzare questo bordino bisogna calcolare un multiplo di catenelle di maglie del 6 più uno perché se cominciate direttamente facciamo una catenella e andiamo a fare subito una maglia bassa è semplicissimo come vedrete sarà un video un video molto breve saltiamo due maglie una due nella successiva c'è la terza in questo caso facciamo nello stesso punto e mi raccomando tre maglie alte un punto picco per fare un punto picco si fa come abbiamo già detto 3 catenelle e andiamo a unire qui in base facendo una maglia bassissima poi sempre nello stesso punto facciamo ancora 3 maglie alte dunque come potete vedere è una maglia ventaglio e qui saltiamo due e facciamo una maglia bassa quindi come potete vedere procediamo secondo la maglia ventaglio con l'unica differenza che qui facciamo invece di 5 6 maglie alte nello stesso punto e qui sulla terza maglia delle 6 facciamo un punto picco dunque ancora una volta saltiamo due maglie e nella successiva successiva cioè nella terza facciamo 3 maglie alte per poi andare a fare il punto picco cioè 3 catenelle che andiamo a unire qui inseriamo l'uncinetto qui e andiamo a unire con una maglia bassissima ed ecco e poi facciamo ancora 3 maglie alte sempre nello stesso punto le 6 maglie alte sono tutte nello stesso punto e per finire il lavoro chiudiamo con una maglia bassa come facciamo con il punto ventaglio ed ecco la nostra maglia il nostro punto punto cattedrale chiese perché sembra perché somiglia a un tetto di una chiesa di una cattedrale spero di spero vi sia piaciuto anche questo schema spero vi sia stata utile grazie per essere stati con me alla prossima volta ciao ciao spero 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 Grazie a tutti.